Il testimone è abbastanza impegnativo, perché è una realtà abbastanza strutturata, grande, grossa, più di quella dove mi sono già trovato. Ero parroco in due parrocchie a Patti, case nuove in Mongiove, due realtà piccole, ma abbastanza belle, abbastanza compatte. E niente, la mia seconda esperienza come parroco, vent'anni fa ero vice, vice parroco al Duomo con padre Spiccia. Diciamo che conoscevo già abbastanza gente anche qua della parrocchia Santa Lucia, per quanto fossi al Duomo come vice parroco. A me una cosa che mi ha sempre aiutato e sostenuto è sempre stata la relazione umana, l'amicizia. Come dicevi bene, non ho mai smesso le relazioni con le persone con le quali, vent'anni fa avevo intrapreso anche un cammino, un'esperienza. E so, e ho avuto la conferma, ritornando qua, che ciò che si costruisce in Dio, obbedendo e credendo alla missione che il Signore ci affida, rimane. E' lo stesso incoraggiamento che ho dato e do ai parrocchiani lasciati a patti, perché comunque l'amicizia è quella che sostiene. Io una cosa che ripeto, ho ripetuto ultimamente, è che Gesù ha bisogno più di amici che di fedeli. Amici nel senso proprio persone vicine, persone di relazione. L'umanità è quella che il Signore ha incarnato e questa è quella che mi interessa a me più di tutte. Ecco, sì, ho trovato una realtà, un ambiente conosciuto, ma ripeto, come atteggiamento, come impegno è nuovo perché sono, tra virgolette, responsabile anche di una comunità, pastore di un greggio e non è indifferente questo. Padre Franchino è 29 anni, è stato in questa comunità e giustamente ha dato un'impronta, un imprinting importante. Diciamo che sulla scia sua io cerco di continuare a sostenere le realtà che già ci sono e vanno avanti. Certamente una cosa che mi sta a cuore è la collaborazione con le altre comunità parrocchiali, con le quali stiamo già iniziando, diciamo, la ragione e la scusa è l'anno di San Giuseppe, San Giuseppe è il patrono di Sant'Agata e di conseguenza stiamo cercando insieme di realizzare Covid permettendo degli incontri interparrocchiali e collaborando. La stessa cosa stiamo cercando di fare è anche per quanto riguarda tutto il resto della pastorale, la catechesi, il sacramento e tutto quello che concerne con la vita di fede di una parrocchia, in questo caso di una cittadina, di un paese. Premesso che io vengo da una realtà a patti che su per giù come numero di abitanti è quasi uguale a questa di Sant'Agata, dove però ci sono già 11 parrocchie, qui ce ne sono soltanto tre e quindi è più facile, dovrebbe essere un po' più facile riuscire a collaborare, ma già di fatto tra me, padre Daniele e padre Enzo c'è un bel rapporto, una bella collaborazione, una bella amicizia e questo penso che sia uno sprone anche ad andare avanti insieme. Io credo che c'è da reinventarsi un rapporto nuovo, una missione nuova proprio in relazione a quello che stiamo vivendo, perché indubbiamente le distanze, il fatto di non poter partecipare, il fatto della paura che spesso prende anche noi uomini e donne di questo mondo, in questo contesto e ci crea un po' di… così metto un po' in dubbio la fede e la fiducia in Dio. Certamente preghiamo, certamente incoraggiamo gli altri, certamente cerchiamo le modalità anche per incontrarci con i fedeli. Ripeto, siamo il Papa Francesco, una cosa che dice è che dobbiamo inventarci, dobbiamo essere… avere l'inventiva, trovare modalità nuove anche di approccio con l'igregge e anche e soprattutto con Dio, perché lo Spirito Santo è sempre nuovo, novità. quindi siamo in ricerca, ricerca costante, perché i mezzi di comunicazione da un lato ci aiutano, indubbiamente, ma dall'altro non permettono quella relazione a pelle che comunque potremmo avere, sia perché c'è una mascherina che ci copre il volto, in questo momento non ce l'ho perché siamo distanti, ma sia perché c'è un mezzo tra di noi che ci impedisce anche di sperimentare a pelle anche l'emozione, la sensazione, la vicinanza. Il messaggio è quello, penso, riflettendoci un attimo, quello che ci dà proprio questo mistero centrale della nostra fede che è la resurrezione. Per essere risorti, per vivere da risorti, cioè da creature nuove, da persone nuove che guardano oltre, oltre il Covid, oltre la distanza, oltre l'apparenza, dovremmo essere capaci di crederci in quello che siamo, in quello che ci è donato e in quello che costantemente giorno dopo giorno possiamo essere capaci di realizzare e fare, a partire dalle piccole cose, impegnandoci a vivere ogni giorno quel dono e quel prodigio che sperimentiamo efficace, sperimentiamo soprattutto presente nella nostra vita, distogliendo gli occhi da ciò che ci distrae, da tutto questo. Ciò che ci distrae fondamentalmente ora come ora è la paura, il sospetto, la diffidenza e tutto quello che comunque ci distanzia ancora di più di quello che siamo.